buongiorno ci ho pensato molto prima di fare questo video perché non sapevo se mantenere dei toni normali o se lasciarmi andare ad espressioni scurrili che mi escono nella mente mi escono ma siccome mi ritengo una persona tutto sommato educata preferisco non utilizzarli perché un conto sono i ragionamenti di pancia un conto sono poi le riflessioni sgombriamo il campo dai dubbi ma veramente vorrei non dirlo più ma vorrei non dirlo più ragazzi non vorrei dirlo più io sono d'accordo con tutte le valutazioni che vengono fatte dalla tifoseria o da gran parte della tifoseria in questo momento sono d'accordo sul fatto che la juve dovrebbe prendere dei provvedimenti dovrebbe fare dei cambiamenti drastici che la panchina in tanti casi in altri casi le panchine sono saltate per molto meno di quello che sta succedendo l'ho detto in generale ok ci sono stati i due risultati positivi in campionato che sembravano avere stradato vediamo cosa succede nelle prossime partite io sono d'accordo con tutto quello che voi dite ok sono d'accordo con tutto quello che voi dite quello che non si capisce forse dalle mie parole è che tutto quello che voi dite e con il quale e con lo quale io sono d'accordo urta contro una cosa razionalmente parlando un muro la società una società di calcio ragiona in maniera diversa è questo che vorrei che voi capiste ma ma o si fa la presa della bastiglia ma siccome non siamo più in quel momento ok ovviamente sto scherzando si fa per dire perché qua sentendo certi commenti ancora un po si va a marciare ok o si deve accettare una situazione così com'è perché i commenti la rabbia le incazzature che io leggo e che condivido condivido e non difendo nessuno condivido non portano a nulla non portano a nulla se la juve perde tifosi perché non vanno più allo stadio se la juve perde tifosi perché non la guardano più alla televisione se la juve semina gente incazzata bene la juve ha già scontato tutto questo sapendo come da storia sua un giorno tornerà a vincere sapendo questo un giorno tornerà a vincere che tutti quelli che l'hanno lasciata adesso torneranno allo stadio torneranno a guardare alla televisione torneranno a comprare i biglietti torneranno a tifare juventus fa parte dei cicli di una azienda che ragiona da azienda non c'è un nazionariato popolare non c'è democrazia in una gestione aziendale piaccia o non piaccia la juventus non è gestita dai tifosi non è gestita dai giornalisti non è gestita da gente che sta al di fuori della società e che in questi momenti si chiude all'interno della società cercano di trovare delle soluzioni spero spero perché non credo che piaccia nemmeno alla società la situazione in cui versa la squadra e la società stessa in questo momento per le altre note vicende che guarda caso saltano fuori appena spunta di nuovo la superlega guarda caso non ha coincidenza però quello è un altro discorso che magari affronteremo se vi dico che all'ordine del giorno ma leggete anche i giornali non lo dico solo io ragazzi io non sono nessuno ma leggete anche i giornali all'ordine del giorno non c'è al momento il cambio dell'allenatore e la valutazione verrà fatta a giugno lo capite o no parlo italiano eh e voi non potete cambiare l'allenatore io non posso cambiare l'allenatore i miei colleghi non possono cambiare l'allenatore poi ci sono le eccezioni alle regole ovvio che se le perde tutte queste qua e non va neanche in Europa League probabilmente avverbio probabilmente non certamente probabilmente verrà fatta una valutazione è ovvio lì siamo se perde tutte le prossime perde con l'inter perde con la Lazio perde col personaggio e non vai in Europa League eccetera lì siamo di fronte ad un altro muro quello dell'evidenza ma è il massimo dell'eccezione consentita per prendere in esame probabilmente il cambio di panchina non ho più parole per andare avanti come devo spiegarvelo come devo spiegarvelo anche io a volte mi annoio a guardare la Juve anche io anche io mi incazzo a vedere certe cose anche io vorrei vederla giocare avere delle idee ma non conto niente e devo prendere atto professionalmente di una situazione ne prendo atto io ne prendo atto i miei colleghi quelli che fanno informazione e noi in questo momento noi che facciamo informazione non abbiamo elementi per dire ci sarà un cambio di panchina ne abbiamo elementi per dire ci sarà una rivoluzione possiamo solo dire ragionevolmente che il bilancio verrà fatto a fine stagione a meno che lo ripeto no perché forse magari perché voi dopo col dito scorrete il video alcuni di voi lo scorrono ah ma non ha detto che lo ripeto così magari sentite quest'altra parte a meno che la Juve non precipiti ulteriormente in queste ultime partite allora probabilmente lo dico a beneficio di chi si collegasse adesso come facevano una volta a tutto il calcio minuto per minuto ripetevano il risultato ok probabilmente avrebbe presa in esame la situazione la Juve deve fare con quello che ha e quello che ho detto ieri a fine del mio video guarda caso lo trovo anche sui giornali oggi puntare su questi ragazzi provare a puntare su questi ragazzi c'è gente che della Juve non può più giocare dall'inizio non può più giocarci dall'inizio ha fatto il suo tempo è un'evoluzione o una involuzione naturale non è un capo d'accusa la gente che ha tirato la carreta e che faceva certe cose fino a una certa età non si può più pretendere da gente così non si può più pretendere che lo faccia adesso è un'involuzione naturale ed esistono i ricambi per questo nel calcio Ilin Junior, Miretti, Sule, Fagioli Fagioli vogliamo vederli in campo anche noi a detti i lavori vogliamo vederli in campo lì si è venuto il momento del cambio drastico non che non sia venuto il momento dall'altra parte sia chiaro ma vi ripeto il concetto non sono un vate, non sono il papa che pontifica vi sto dicendo semplicemente qual è la situazione obiettiva questa è la situazione obiettiva i cambi li decide solo la società non li decide la gente, non li decido io, non li decidono i miei colleghi e se non riuscite a non essere stato scurrile, pensate un po' io dico le cose come stanno obiettivamente obiettivamente iscrivetevi al canale a stasera con il secondo video magari tagliamo un pochino di calcio visto che Vlaovic a quanto pare non c'ha nulla grazie a tutti